Di confusione ci sembra di capire che ne regni ancora tanta, c'è poca chiarezza all'orizzonte, ci sono tante speranze, siamo in attesa di tante approvazioni, però ad oggi siamo tutti aggrappati a quel primo di agosto come se fosse veramente la nascita di Cristo. Tu Marino, una tua impressione, cosa ci vuoi dire in merito? Stiamo lavorando, stiamo programmando, il calendario internazionale è stato approvato perché i mondiali sono stati inseriti, i campeonati europei l'altro giorno li hanno inseriti in Francia a Pluè, tutto l'avvenire è stato confermato, quindi i nostri puntamenti primari ci sono, quindi giustamente dobbiamo cercare di iniziare a lavorare per questi ragazzi. Quindi lo Zenit dove è puntato? Quando si parte definitivamente con i tuoi ragazzi? Qual è il primo giorno che salirà in ammiraglia? Il primo giorno stiamo programmando, sapete, lì in Romagna queste gare di multidisciplina e abbiamo inserito anche, sperando sempre che queste gare partano, perché purtroppo ancora oggi non c'è nulla di chiaro, però dal lato organizzativo la nuova parte di Marco Sellerie, sono molto avanti su ogni punto e quindi manca solamente i dettagli, il dettaglio che poi la cosa più importante è nulla osta per poter fare le corse. Però già lì noi abbiamo inserito la nazionale, quindi sarò già lì con alcuni ragazzi per iniziare a correre, perché tra il 14 e il 19 abbiamo il punto da venire, quindi mi sembrava giusto fare una certa attività già subito, nelle prime gare che fanno in Italia.